eccovi buongiorno siamo in quell'orario della giornata in cui non si sa dove è andato a finire il mio trucco ma non importa vi assicuro che la mattina mi trucco per rendermi presentabile adesso non si vede più sono qui col piccolino che dorme qua di fianco sta prendendo quest'andi e stanco di fare macelli evidentemente oggi facciamo un live veloce vi faccio vedere le novità anche perché so che intorno alle 18 va live impronte per presentare la release quindi non voglio sovrappormi del palinsesto però ci tenevo a farvela vedere perché è una collezione molto grande sono tutte cose deliziose sono certa che ci piaceranno molto e poi vi faccio vedere anche il piccoletto che dorme oggi è stata una giornata terribile un imprevisto informatico operativo dietro l'altro non ho ancora finito di sistemare non hanno ancora finito di sistemare in realtà il tecnico del sito penso farà le ore piccole cosa volete che vi dica ognuno le sue croci lui a me e vabbè vi aspetto qui ho posato un attimo i biscotti i baci di damma e pistacchio ma credo che il sacchetto finirà oggi pomeriggio sì 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 non ce la meritavamo pensa che io l'ordinata credo prima dell'estate non ricordo più di preciso quando ma secondo me prima della pausa estiva potrei sbagliarmi ma comunque era talmente tanto tempo che l'avevamo ordinata che non mi ricordavo più che cosa avevo ordinato quindi sono stata molto contenta quando è arrivata sono cose deliziose chissà che magari prima o poi io non provi a coloricchiare qualcuno di questi timbre alcuni sono ancora un po piccoli per quella che è la mia capacità di colorazione nel senso che siamo partiti da un fiorellone grande col bottalico e magari il mio prossimo tentativo di colorazione con gli olo lo faccio con la ponsezia che mi dà degli spazi importanti per muovermi però non è detto sei a dieta dovrei essere a dieta anche io per il per il reflusso nel senso che ho fatto tanti 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 mesi di detox adesso va un po meglio ma tra poco mi sa che me la sto scialando un po troppo che va meglio ecco sì vabbè allora dovrei aver smistato tutti i timbri delle strips che sono arrivati domani magari nel live li faccio vedere meglio così come si meritano abbiamo avuto un piccolo grande problema operativo sul sito per cui non è stato semplicissimo andare a ripescare chi deve ordinati ma dovrei aver ripescato tutti adesso ho ricontrollato insomma che la situazione si è riportata a una operatività più o meno normale dovrei aver controllato comunque chi dove poteva partire l'ho messo in partenza se non ho messo in partenza il vostro pacchetto e vi aspettavate che partisse non l'ho capito e quindi fateci semplicemente richiesta ben arrivati buongiorno primo ottobre iniziamo i mesi che finiscono in over mber october september october novembre no in realtà già il te december si sono tutti i mesi che mi piacciono molto pumpkin spice anche se sembrerebbe mi dicono dalla regia le persone a cui ho chiesto di cercarmi il pumpkin spice che prendevo di solito di starbucks che non forse non ci sono più le bustine solubili sono una personcina molto triste se non ci sono più però vabbè sopravviveremo mi rifarò col toffinat cosa voglio cosa volete che vi dica buongiorno buon pomeriggio scusate io sempre scappata di casa ma tanto insomma lo sapete che apriamo la porta di questo micro salotto sul negozio ed è un po come essere al lavoro con me quindi spettinati il trucco che non si sa bene la base regge ma il trucco non si sa bene dove sia finito chissà se col flash perché andando live di qua non so più dove sia il flash ma non importa buongiorno ben arrivati live veloce dicevo perché non voglio sovrappormi a quello di impronte in cui faranno vedere un sacco di cose insomma della release della release di natale però ci tenevo a farvele vedere perché sono deliziose sono tanti pezzi sono uno più carino dell'altro questa rendina la rendina secondo me la posso colorare mi sembra facile non lo so esperte di colorazione ditemi voi io secondo me questa la posso colorare cioè mi sembra abbastanza semplice no e momo è preso sto trip cioè solo che il bottalico non è che passa proprio di qui tutti i giorni a darmi lezioni di colorazione la margherita me l'ha fatta colorare sufficientemente bene mi è caduto un timbrino aspettata sufficientemente bene che manco ci credeva lui però insomma vediamo devo recuperare il project life di agosto ma adesso in questi giorni oggi con oggi se mi sistemano queste ultime cose che sono ancora sballate sul sito dovremmo tornare più o meno un po' alla normalità abbiamo ancora tanti ordini in realtà da fare perché oggi siamo andati sono arrivati tantissimi ordini ieri per gli arrivi perché comunque mi sono piaciuti tantissimo però in realtà c'è un po rallentato stamattina perché non funzionavano alcune cose e non abbiamo potuto progredire quel solito ritmo abbiamo circa un centinaio di ordini ancora da fare quindi su quelle che arriveranno ancora dopo ci c'è però secondo me entro giovedì ce la facciamo e in fingarda allora no allora no 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 perché già non sono brava proviamo prima con la ponsezia perché questi sono piccini gli altri sono piccini sono un po troppo piccoli nel senso che la clay non ha tutta questa manualità quindi dobbiamo tenerci su degli oggetti da colorare che siano a prova della clay buongiorno ben arrivati facciamo un live breve breve vi faccio vedere le novità vi faccio vedere questo cucciolotto che dorme ecco una catiuscia potrebbe insegnarmi a colorare il bottalico mi tratta male buttati eh non lo so se mi dici che in fingarda cioè io proprio non non mastico esattamente bene la materia della ponsezia ti tocca aspettare ancora mannaggia la mettiamo questo weekend perché doveva essere l'omaggio programmato da un sacco di tempo per lo scorso weekend ma non è andata dritta una ma vabbè vi ho tediato già abbastanza con questa cosa che non me ne va mai dritta una con le spedizioni ma non è una finzione purtroppo è vero però va bene dunque cosa stiamo aspettando in realtà oggi è arrivato il reintegro del bottalico in realtà il bundle della greenery è già di nuovo finito ma non vi preoccupate fin tanto che riusciamo a reperirli noi li lasciamo ordinabili mi piacerebbe fare una roba con il bundle del bottalico vediamo vediamo hai colorato il mio fiozzetto di brutto appostalo postalo se sono riuscita a colorarlo io cioè è vero che avevo il bottalico di fianco che mi bacchettava però insomma è stato abbastanza semplice per una che non sa colorare vi faccio vedere il cuccioletto fin tanto che dorme amore ciao vedete lui si mette qua lì ci sono tutte le stampanti gli ordini le cose le scatole e lui dorme lui alla mattina ama stare con noi mentre facciamo gli ordini e bacchettarci pure ecco e niente è come se andasse all'asilo nel senso che lascia tranquillo Sirius mi sono fatta un po' questa idea che si sono organizzati tu la mattina vai di là non me rompe vai di là stai con loro e poi torni dopo che ti sei sfogato mi dà idea che si siano organizzati in questo modo ecco vabbè 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 allora dunque che altre novità ho da darvi allora ieri sera ho aperto le newsletter e mi sono vista costretta ad ordinare cose di cui non posso parlare non posso mostrare foto fino al 5 che è sabato pomeriggio e quindi niente vi dico che nel weekend oltre alle solite cose ci saranno altre cose che ci piaceranno molto sì 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 arriveranno la prossima settimana perché qualcuno le presenterà nel weekend se volete immaginare chi è che presenta cose nel weekend così lo dico sì 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 ha come ha come l'eyeliner è bellissimo lui comunque questo weekend avremo quelle cose lì in più dovremmo avere altre cose nel senso che io adesso adesso vado vado a guardare questa roba qui altre cose di team ma credo che queste forse si sappiano già fatemi vedere se c'è la programmazione delle cose i team vediamo lui in genere mette una sorta di planning dei video not this time non c'è qua la pianificazione è vero 18 settembre mi sembra un po' too much vediamo su instagram perché ho delle cose di team che arrivano che sono i timbri che però ho già fatto vedere e che dovrebbero spedirci entro fine settimana quindi secondo me li avremo li avremo poi li avremo poi la settimana dopo ancora o la fine della prossima settimana però ci sono altre cose che mi stanno spedendo su web che sono negli ordini che dovrebbero partire oggi che secondo me ci facciamo la piadina un po' di color la piadina la mercatelio una volta mi ha mandato le piadine tipo mi sono durate tantissimo una roba meravigliosa la prima non avevo capito l'ho mangiata cruda vabbè sono assolutamente esiliata dal territorio emiliano romagnolo mi rendo conto il bottalico mi ha picchiata praticamente a parole no eppure ero convinta di aver visto un'immagine di timbri dove c'era la programmazione chi presenta nel fine settimana qualcuno e vi metterò il preordine perché arriveranno la prossima settimana ma le ordinate queste cose non c'erano neanche le foto come spesso mi capita cose di cose cioè se volessimo dare un nome in codice un tempo l'abbiamo fatto per il gadget della fidelity di un paio di anni fa il carciofo e i carciofi che presenteranno questo weekend sono interessanti non me l'aspettavo e se qualcuno me l'aveva detto prima avevo perso le newsletter nel senso che la newsletter mi è arrivata diceva ordina subito il carciofo esatto il mazzo di carciofi che ho ordinato ieri è molto interessante e ci piace Giovanna a te piacerà tantissimo mamma mia che dice cose di cose e cose del coso che gioco mamma mia comunque c'è un periodino tranquillo ma d'altro canto lo sapevamo perché questo periodo qua è il periodo più bello dell'anno in cui escono tantissime cose io sono un po' provata economicamente e fisicamente ma sono estremamente felice vi dico solo che domani vado a ritirare le prove le prove di stampa del nostro December Daily così se vanno bene in questi giorni vi preparo il preordine io credo che ti piace Giovanna guarda secondo me chiedi la spedizione perché tanto secondo me poi non lo so sto ancora lavorando sul pacchetto di fazzolettini perché non ho ancora avuto tempo arrivo attaccato però non ho suonato meno male solo che quei robi lì da togliere Serena sono terribili a me è capitato una volta ci ho provato in tutti i modi ho visto dei tutorial su YouTube poi sono ritornata al negozio perché non sono riuscita ma io sono particolarmente impedita quindi questo non significa che poi tu non riuscirai a togliere l'antitaccheggio però alcuni sono particolarmente balordi e si erano dimenticati di togliermela dalla cassa io ci ho provato un po' e poi però niente sono tornata salve non mi avete tolto l'antitaccheggio non posso usare il cardigan e infatti senza ponzezza non puoi fare richieste cinecarciofi mi hanno incastrato oh mamma mia allora prima che si facciano le 18 cosa mi ricorda Lost che sono passati un numero infiniti di anni da quando è iniziato Lost a me quando fanno queste robe del oggi è l'anniversario il trentesimo anniversario della messa in onda della prima puntata di Friends mi sento immediatamente una cariatide da cent'anni non so sono uscite la maggior parte delle collezioni secondo me no non so se dirvi il meglio o il peggio deve ancora venire il peggio sicuramente per i nostri conti in banca e anche per il mio conto in banca la mia logistica sì io credo che ci aspettino ancora parecchie cose e c'è sicuramente mi aspetto vabbè Florilege esce con l'autunno e poi uscirà anche col Natale sta arrivando Cocoa Vanilla però l'abbiamo già abbastanza ordinata credo che usciranno altre cose di Simple Stories perché esce sempre una collezione invernale di Bottalico Coppia Creativa non so se uscirà con qualcos'altro Mintai cioè secondo voi è finita qui la cosa di Mintai non lo so non lo so io credo che ci aspettino ancora veramente parecchie cose però vabbè prima che inizino a propinarci San Valentino dagli Stati Uniti noi ci guidiamo le cose di Natale diamo uno sguardo quindi prima che siano cose dei cosi prima che siano le 18 qualcosa di nuovo di Fortinine Market io me l'aspetto in ogni momento cioè ogni volta che apro una newsletter mi aspetto che mi dicano che ci sono delle collezioni di Fortinine Market sicuramente Katie ha delle collezioni in uscita fino a gennaio quindi secondo me le cose che presenteranno a Paper World a Francoforte saranno ancora marchiate Katie e quindi dobbiamo ancora piangere male poi chi lo sa poi arriverà tanto qualche altro nuovo designer che ci farà piangere uguale quindi ci sarà la fiera in genere loro vengono alle fiere più grandi sì 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 è venuta a gareggiare a giugno quindi Matthew Fox io non Matthew Fox non so chi sia allora un altro brand no aspetta sì a San Valentino qui ci rovinano Luigi un po' un po' però è un periodo così bello io sono così contenta ripeto il mio conto in banca e anche il mio fisico un po' meno perché comunque comincio a non avere esattamente più l'età per fare queste faticacce e neanche per vedere tutti questi problemi informatici che stamattina quando ho visto tutto sballato così mi sono saltate via otto coronarie anche se non le abbiamo otto coronarie mi sono saltate quelle di questa vita delle due vite precedenti e della vita successiva e le ho fatte poi saltare di conseguenza all'uomo del sito al tecnico a tutti quelli che mi circondavano tutto bene ah il protagonista di Lost non l'hai riconosciuto? Muriel che dobbiamo fare? il conto in banca non esiste più torniamo alle banconotte sotto il materasso secondo me è una buona idea vediamo impronte prima che io mi perda in chiacchiere perché è facilissimo ron d'orle allora io vi faccio vedere i timbrini questo è un clia questo non ha la fustellina poi best friends questo è delizioso questo secondo me è un po' piccolo io non mi azzarderò mai a provare a colorarlo però vorrei provare a colorare dei timbrini un pochino più grandi cioè secondo me ce la posso fare questa è la sua fustellina poi c'è la notte prima di Natale guardatela è bellissima questa e questa è la sua fustellina poi c'è Santa's Workshop ecco io non so come con i pennarelli ad alcol si possa riuscire a colorare cose così piccine nel senso che cioè la punta del pennarello è più grande mercatelli bronzin svelatemelo cioè adesso ne dico due a caso ma anche Monica cioè tutte voi che colorate come si fa perché io poggio poggio la punta del pennello e vabbè quindi Santa's Workshop e c'è anche la sua fustellina con tanta pazienza ok che è quella cosa che io non ho dall'89 quindi troppo piccolo per qualsiasi medium quindi non lo coloriamo quindi io quelli decisamente manco li guardo perché pazienza finita nell'89 quindi facciamo ho fatto bene a fare la serie dei fiori grandi perché quella probabilmente riuscirò a colorarla sono stata brava Merry Christmas c'è la versione piccola e anche la versione large adesso ve le faccio vedere questa è la grande e questa è la piccina voilà poi ci sono gli alberagli stilizzati e Floralage Natale sicuramente usciranno non è che mi possono lasciare senza la collezione di Natale a me serve per il nostro December Daily quindi la pretendo ma sicuramente adesso usciranno con con l'autunno e poi usciranno con Natale poi arriverà Doodle poi arriverà Bella Boulevard ovviamente e poi cos'altro non so se volete facciamo questo triste elenco insieme però è deprimente per i nostri conti in banca poi c'è il cagnolino come persona piccolo mi sarai sfuggita Simona così come ma tu sei nel mio stesso club vero stelline che si chiama stelline guardate è una fustellina unica che vi fa questa potete usarla sia in negativo che in positivo è sempre una fustellina furba questo questo tipo di fustellina qua la tagghina con la scritta la scritta è tutta impunturata poi ci sono i pattini fai tutto monocolore e poi sfumi con i colori a legno i colori a legno intendi le matite che ignorante che mi sento tutto un colore ce la posso fare pattino oh poi c'è questa che deliziosa questa potrei provare a colorare il fustellato ci sono persone che sono bravissime a colorare i fustellati io no però al corso che abbiamo fatto con spellbinders che ho comprato che poi non sono mai riuscita a finire ma non importa hanno provato a insegnarci io non ho non sono esattamente non ho colto esattamente bene ora puoi guardare gli spoiler a Lidia ma tu hai resistito fino adesso ma cioè ma 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 in che modo raccontaci facci dai suggerimenti matite matite la parola matite qui scatena in questo salotto scatena ilarità non dovute quindi non iniziamo non so se ce la chiodo fermiamoci tutti allora scatolina uh parla qua scatolina christmas ball box guardatela hai fatto bene a resistere l'hai già aperto tutto? dimmi che me non l'hai aperto tutto guardate qui questa sta nella big normale sì perché è un 6 questo sicuramente a parte che in altezza questo è un 6 sì 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 ci sta ci sta poi guardate che carino questa è la bustina critter folder è la bustina che ha praticamente la pattina che si trasforma nel personaggio sono deliziosi ovvio tutto d'un fiato brava sono molto orgogliosa ed è anche abbastanza grande è la bustina lui se la dorme voilà questi sono i tag tag tonda natale la stavo leggendo in inglese quindi tag tonda natale non molto allora tag tonda di natale guardate che faccione che faccione congolante che ha questa renna è bellissima mi piace tantissimo poi l'alberello 3d da costruire c'è questo pezzo da replicare più volte poi avete anche le stelline è la parte per la chiusura della base poi la casetta 3d è piccina ma ci sta dentro il lumino ti ho svegliato scusa guardate è piccina è deliziosa poi altri timbrini quindi Santa's Coming anche questo questo fa un po' il nostro sidecar solo che se ne sta andando il nostro Happy Mice e questi sono e questa è la sua fustellina ho ricevuto il tuo pacco e che sei ancora qui e perché non hai aperto il pacco mi stai dicendo quanto piccola Claudia guarda vediamo se ci sono scritte le misure no adesso non volevo svegliarti stai buono adesso ti prendo un righello e te lo misuro aspetta un secondo dunque la fustella che abbiamo provato l'altro giorno del sidecar vede Babbo Natale di spalle che se ne sta andando portandosi via Rudolf quindi se ne sta andando perché è la mia grafica del 26 di dicembre quando lui ha finito e dice ciao ci vediamo il prossimo anno allora la casetta ha una base 5 però in realtà allora ah perché questo è il tetto questo è il tetto repeat after me this is the roof the roof that goes on the top pensavo che fosse la base e invece la casetta mi misura un 4 per 3 scusate sono un po' annebbiata dagli eventi della giornata perché è rettangolare la casetta la parte sotto è il tetto scrittine me l'avevo detto che è grande questa release Christmas hugs guardate che bellini e poi c'è la fustella se dovesse finire se dovesse finire qualcosa non vi preoccupate appena me ne accorgo li rendo ordinabili e provvedo a rintegrare tanto abbiamo ancora sospeso delle cose che devono arrivare dell'ultima release è questo che pensavo di poter colorare ma Monica mi ha detto che è in fingarda e quindi non ci proverò salvo che qualcuno non voglia guidarmi in questa espresa in questa in questa impresa la base non c'è non ho non c'è perché quello è the roof quello è il tetto certo la base non c'è i timbri questi qui non sono particolarmente piccini però Monica mi diceva che sono un pochino in fingardi da colorare quindi io lascerei stare questa impresa titanica questa è la sua fustella specie da fare nei live improvvisando e facendo e andando poi a sbattere contro il TGV della colorazione ecco lascerei perdere adesso Monica si senti qua no no ma io provo prima con i fiori grandi cioè tanto ne ho in programma una serie che potrei farne uscire tipo 12 e quindi non c'è problema iniziamo con i fiori cose semplici poi piano piano mi acclimaterò e poi la Ponsezia ha pochi colori anche la Nenina ha pochi colori in realtà però quindi aggiornamenti operativi è online la release di Natale di impronte d'autore sono tantissimi elementi è deliziosa ci sono tante fustelle ci sono tanti timbri coordinati alle fustelle se dovesse finire qualcosa ripeto lo renderemo ordinabile più presto e faremo in modo di avere i reintegri quanto più velocemente possibile sono arrivati oggi anche i reintegri dei bundle e delle novità di Natale uscite fino ad ora del bottalico la greenery è già finita il bundle della greenery è già finito ma non vi preoccupate perché dovrebbe essere ancora disponibile adesso anzi lo controllo quindi se non l'avete ancora ordinato ma volete ordinarlo prenotatelo e provvederemo a farlo arrivare il prima possibile vediamo solo un secondo mi sembrava che ci fosse tutto ho guardato prima sì sì ancora tutto ordinabile non vi preoccupate stiamo aspettando ancora i reintegri e la nuova release di Waffle Flower ma penso che se ne parlerà per la prossima settimana mentre per quanto riguarda i timbri di Natale di Timolz e gli Stensi che abbiamo già visto perché li ho presentati mi sembra sabato dovrebbero spedirli questa settimana quindi in realtà arriveranno credo tra la fine di questa settimana e la prossima secondo me verosimilmente la prossima nel weekend ho scoperto che insomma verranno presentate cose piuttosto interessanti che ho ordinato ieri sera che vi metterò in preordine questo weekend spero che ci mettono a disposizione le foto perché non ci sono ancora le foto però sono piuttosto certa che ci piaceranno molto Giovanna te lo dico cos'altro stiamo aspettando forse basta non lo so se arriverà ancora qualcosa questo fine settimana non ho perso un po' il conto delle spedizioni in giro perché queste due giornate sono state veramente molto intense ripeto oggi siamo stati un pochino rallentati quindi abbiamo ancora parecchi ordini da fare ma secondo me per giovedì riusciamo dovrei aver smistato tutti i bundle della fustella del Franco Bollorotondo del suo stencil e dei timbrini magari domani cerco di farveli vedere in maniera un pochino più decorosa e magari recuperiamo anche il project life o domani o dopo domani così da portarci in pari poi iniziamo con le cose di settembre e chissà mi sembrava di avere ancora qualcosa da dirvi ma volevo finire la diretta prima delle 18 di modo che possiate vedere la diretta direttamente di impronte noi è già tutto online abbiamo già tutto in casa buon divertimento in attesa dei clean non ho ancora avuto tempo di fare la grafica chiedo venia però sono certa che vi piacerà grazie a tutti buono shopping buona visione se guardate il live di impronte per vedere tutti gli utilizzi gli esempi insomma di questa nuova bellissima collezione e noi ci aggiorniamo domani grazie a tutti ciao ciao